Forse pochi sanno che fu inventato da uno spagnolo che ebbe l'idea mentre era ricoverato in ospedale per le ferite riportate in un bombardamento durante la guerra civile iberica. Parliamo del calcio balilla o biliardino, uno dei pochi giochi sopravvissuti alla rivoluzione tecnologica e digitale. In Italia la diffusione vera e propria del calcio da tavolo è iniziata nel secondo dopoguerra, quando rudimentali biliardini furono utilizzati con buoni risultati per riabilitare i reduci di guerra. Da questo uso probabilmente è derivato il nome di calcio balilla. E ancora oggi non c'è oratorio, circolo ricreativo, lido balneare che non ne abbia uno. Il calcio balilla ha segnato e segna momenti importanti di aggregazione sociale e sano divertimento. Da qualche anno è diventato uno sport a tutti gli effetti, che si struttura ora anche nella nostra regione. Nasce infatti in Puglia la Federazione Italiana Calcio Balilla, FIVIC, guidata dal presidente regionale Luigi Favia, con l'obiettivo di diffondere e far applicare regole e comportamenti etici previsti da uno specifico regolamento nazionale, in sintonia con le indicazioni dettate dal CONI a tutti gli organismi riconosciuti. Non a caso la FIVIC ha già chiesto il riconoscimento al Comitato Olimpico Nazionale come nuova disciplina associata. Intanto in Puglia la FIVIC vara la sua prima iniziativa, un corso per istruttori e per ufficiali di gara che impegnerà a Bari dal 14 al 26 gennaio non più di 30 partecipanti, preludio di una serie di gare e tornei sull'intero territorio regionale. Visti i posti limitati, è opportuno prenotarsi per tempo, modulistica per iscriversi al corso e programma, sono scaricabili da Facebook alla pagina di Puglia FIVIC, sezione Gruppi. Dunque, sano divertimento ma anche agonismo, tornei riconosciuti, tecniche ufficiali, con gergo da addetti ai lavori, la doppietta, la napoletana, la cinese, il gancio, l'attanaglio, l'anaconda e la sfinge. Parole forse incomprensibili e più abilità importate dalle federazioni degli altri paesi, un mondo nuovo da scoprire che coinvolge tutte le età, multietnico e praticato con risultati importanti anche dai diversamente abili, tanto che da due anni esiste anche la federazione paralimpica italiana Calcio Balilla.